la definizione corretta è parata per i fotografi ma sempre di gran parata si tratta deviazione autogol non finché in porta c'è bestetti colzani il portiere goleador ci fa vedere che sa anche parare contropiede e gol? no c'è ancora bestetti la cantera vince perché segna molto ma anche perché dietro c'è magnani a chiudere la porta poteva essere un gol da top 5 ma sempre magnani chiude tutto il fondamentale più importante per un portiere i riflessi pazzi con la mano di richiamo toglie letteralmente il pallone dall'incrocio questo in gergo tecnico si chiama colpo di reni mai dare per battuto un portiere anche dopo averlo saltato borsellino come un gatto si rialza e riagguanta il pallone grazie 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 grazie